E' il comando di Nessaluzio, buongiorno, senta solo il deputato Gordezio. Noi siamo quindi pronti alla macchina, sottoposta certamente di Polizia, da voi, una Renault rossa in via Baretti, davanti al numero 16, dove nonostante i sigilli apposti dai vigili urbani, continuano a dormire dei clandestini. Il quartiere è molto soddisfatto della vostra presenza e ci carica come gesto di solidarietà e di apprezzamento per la nostra presenza nel nostro quartiere, di accettare una nostra modesta ospedale. Quanto titolo, non va bene. Prego, buon cappuccino. Ecco qua il secondo cappuccio.